Il progetto è pronto, ma la copertura economica non c'è. In pesante ritardo sull'originaria tabella di marcia, la ristrutturazione di Cascina San Savino a Piacenza è teoricamente cantierabile, nel senso che, pubblicato il bandio di gare e aggiudicato l'appalto, i lavori potrebbero partire, teoricamente, dal momento che il costo dell'intervento è di ben 17 milioni, IVA inclusa. Si tratta di un importo di gran lunga superiore rispetto ai 7 milioni che venivano indicati solo un anno fa, o anche ai 10, che in passato il Comune contava di ottenere dallo Stato, candidando ai fondi PINQA PNRR il recupero della Cascina Alemose. Sta di fatto che quindi i fondi non ci sono e da Palazzo Mercanti fanno sapere che il recupero del complesso architettonico ottocentesco, destinato a diventare uno spazio multifunzionale, non è una priorità e certamente non con risorse proprie dell'ente. È ipotizzabile che, progetto esecutivo alla mano, Palazzo Mercanti sottoponga l'intervento ai superiori livelli di governo, alla ricerca di fondi da intercettare, a partire da quella regione che già in precedenza interpellata, risultava avere dato una disponibilità di massima. Il progetto esecutivo arriva da oltre due anni dall'assegnazione dell'incarico a una cordata romano-modenese, incarico per il compenso del quale nel 2020 si erano ottenuti dal governo 500.000 euro.